buonasera a tutti vi prego di prendere visione del sia del disclaimer che dell'avvertenza sul rischio e soprattutto una nota bene lo scopo di questi webinar che andrò a spiegare hanno solo finalità di dati che non vanno intese per nessuna ragione come incentivo all'investimento ognuno è responsabile delle proprie azioni derivanti all'utilizzo di questo tipo di analisi buon training a tutti allora siccome è un webinar molto dove andrò a trattare diversi aspetti entriamo subito nel concreto e vi vado ad elencare i punti che andremo a trattare allora innanzitutto parliamo dell'installazione della farò vedere come installare la la dashboard e l'indicatore retail a tal proposito magari mi segnalate in chat chi già ha questo tool perché comunque disponibile già per tutti i clienti di tic mille quindi chi ha un conto reale già dovrebbe averlo scaricato quindi se mi scrivete in chat chi già ce l'ha così mi faccio anche un'idea dopodiché vi faccio vedere dove reperire i dati sull'analisi retail in maniera del tutto gratuita perché sono disponibili online quindi non bisogna fare nessun tipo di abbonamento o quant'altro basta appunto andare su questo sito che vi che vi dirò e potete reperire in maniera anche in tempo reale tutti i dati sull'analisi retail poi parleremo un po di gli studi che ho fatto finora molti di voi ovviamente provengono dalla chat di working forex che è una chat che ho creato da diverso tempo non ricordo se sono già passati un paio d'anni però li abbiamo e ho portato diversi studi con focus principale sull'analisi retail ci sono stati degli degli esperimenti dei progetti che sono falliti altri che sono andati molto bene però quello che poi mancava un po era un po una costanza della strategia che da circa un anno e mezzo a questa parte sembra essere comunque arrivata uso il condizionale perché ovviamente con il training non si sa mai e in particolare quindi andremo avere un po di performance ottenute da questo studio in particolare andremo a vedere come si è passati da dei mesi in cui non si riusciva a guadagnare quindi c'era quella sorte di black even di piccola perdita quindi ho scritto da meno 150 pips a oltre 4000 pips di gain in due anni e mezzo di utilizzo grazie ad alcuni accorgimenti poi spiegheremo spiegherò la strategia applicata quindi andremo a vedere le due strategie più una cosa che ho rilasciato proprio rilascio questa sera diciamo tra virgolette in anteprima e delle variabili dell'expert che utilizzo personalmente per entrare al mercato quindi anche questo expert sarà sempre a disposizione in maniera gratuita e quindi diciamo che l'expert è anche una parte importante perché da un po il cosiddetto trigger per poter entrare poi al mercato e lo fa in maniera del tutto del tutto automatica perché personalmente lavorando per tic mille comunque facendo anche altre attività che mi impegnano in maniera abbastanza importante durante la giornata non ho tempo di stare dietro al grafico quindi ci pensa l'expert ad entrare per me io vado a fare soltanto un'analisi che appunto la faccio verso le 21 di sera da qui che nasce l'idea dei webinar che poi l'expert entra durante le fasi di bassa volatilità e quindi poi la gestione la fa anche lui e devo avere solo pochi accorgimenti durante il giorno e controllare magari le che le posizioni vadano dalla mia parte quindi poi credo che ci sarà tempo anche perché comunque ci sono diverse opportunità che si sono create in più in giornata quindi l'impostazione dell'operatività giornaliera che penso che sia il modo migliore per poter diciamo assimilare questo tipo di strategia quindi l'impostazione dell'operatività giornaliera ricavata dall'analisi retail in tempo reale allora fatevi vedere se sono ricordato della registrazione ok allora facciamo così io passo all'installazione della dashboard e dell'indicatore retail che io ovviamente ho già impostato sulla mia piattaforma molti di voi comunque già visto che mi avete scritto che comunque ce l'avete già come installato sì ci sono abbastanza che qualche utente ce l'ha allora la dashboard va che sarebbe questa qui è un expert quindi va nella cartella expert che sarebbe qui nella mt4 da dove si scarica una volta che appunto poi mi avrete inviato l'email con la richiesta del materiale io mi invierò un link di google drive dove vi sarà dove vedete un po tutte le cartelle che sono condivise in questo in questo drive andando sulla cartella expert troverete il primo che ti enti s info posizioni retail lo scaricate e si apre la schermata qui in basso quindi una volta che cliccate qui apparirà qui sotto io non lo faccio perché già l'ho fatto dopodiché prendete questo file fate su mostra nella cartella e vi apparirà e apparirà tipo qui con il nome del dell'expert e dovrete andarlo a mettere nella piattaforma mt4 per farlo da file apri scheda data poi si apre la schermata mql4 expert e lo inserite appunto nella 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 cartella relativa chiudete e fate un'aggiorna allora scrivetemi in chat per favore se è chiaro questo passaggio perché poi vale lo stesso discorso anche anche per l'indicatore soltanto che invece nella cartella expert ma nel nella cartella indicatore quindi se è chiaro questo io andrei avanti e vi spiego un po le caratteristiche di questa dashboard innanzitutto che cosa avrete avrete ovviamente il disclaimer con chi ha programmato il tutto che è salvatore labriola che saluto spero che ci stia seguendo ok attirio si è perso il passaggio però con la registrazione dovresti vederlo ti faccio dai ti faccio vedere quella nell'indicatore perché è lo stesso allora l'indicatore quello retail è nella cartella indicator quindi io vi girerò un link di google drive tu lo scarichi da qui verrà mostrato su questa parte quindi in basso al al tuo schermo dopodiché dovrai fare mostra nella cartella quindi cliccando su questa icona a fianco al file mostra nella cartella si apre nella cartella fai un copia quindi copi quello che devi copiare e lo va a inserire nella mt4 quindi da file apri scheda data mql 4 in questo caso vai a mettere nella cartella indicators la dashboard quindi va nella cartella expert l'indicatore che questo qui l'indicatore di cui parlo è questo questo che vedete qui sotto questo invece va nella cartella indicator ok una volta installato il tutto quindi dovete attivare lato training perché altrimenti non non parte vi troverete questa schermata questa schermata è stata divisa su divisa in tre schermate principali allora major ovviamente vedete tutte le major quindi contro il dollaro poi ci sarà un aggiornamento ulteriore dove vi faccio vedere anche il dollar index su come sono esposti le tele però quella con qualcosa che è un upgrade che verrà dato tra tra qualche giorno comunque in sostanza poi non cambia quindi nella dashboard che cosa che informazioni possiamo ricavare innanzitutto ovviamente il simbolo con la percentuale di chi è sposto long con gli istogrammi poi verdi e chi è sposto short con gli istogrammi rossi e il numero dei lotti long che sono appunto questo 58 per cento il numero dei lotti short il prezzo medio di carico di chi è long con quante se questa diciamo questo meno 312 sta a indicare se questo prezzo medio di carico e qui di 1 10 e 48 rispetto al prezzo attuale è in guadagno in perdita questo meno 312 significa che attualmente questo 58 per cento dei trader amendo il prezzo medio di carico quindi se andiamo a calcolare come se fosse un unico trader diciamo che il suo prezzo di ingresso è di 1 10 e 48 quindi sta perdendo rispetto al prezzo attuale 312 pips che il prezzo viene mostrato qui in giallo 107 35 e poi abbiamo il prezzo medio di carico anche di chi è short che attualmente è a 1 0 8 55 e si trova in guadagno di circa 119 pips diciamo che questi mercati attuali in alta volatilità questa è una cosa che ho detto anche in in altri appuntamenti è un è un mercato ideale per quei trader che utilizzano sistemi magari anche in altri martingala perché sono mercati molto direzionali quindi stanno facendo pochi respiri del trend e questo permette di massimizzare i guadagni quindi chi diciamo è entrato dalla parte giusta del mercato basta che poi mantenga un po le posizioni per vedere comunque guadagni di diversi diverse centinaia di pips e quindi diciamo che questo è un po un'anomalia che non si vedeva da parecchio tempo e mi fa piacere da un lato perché significa che se è vero che la maggior parte dei trader sta perdendo c'è anche un'altra parte una piccola parte rispetto alla maggioranza che però sta guadagnando sul mercato e quindi è un qualcosa anche che uno stimolo anche per per fare comunque meglio e quindi queste sono un po le se le le indicazioni e poi c'è un alert questo è un alert molto interessante che ci va a comunicare quando arriviamo a una percentuale di che a noi interessa non lo so ad esempio vogliamo inserire una percentuale del quando arriviamo al 90 per cento io scrivo qui 90 per cento quando lui arriva al 90 per cento lanci lancerà un alert quindi basterà poi cliccare con il verde e ti avviserà a lui quando questa percentuale è arrivato al 90 per cento diciamo che questa la versione gratuita che si trova su my facebook non non ha queste mi sembra che non abbia queste funzionalità quindi questa è una cosa molto interessante quando voi volete essere avvisati e poi vi farò capire anche il motivo per cui è importante averlo quando parlerò delle strategie se volete cancellare questa alert basta schiacciare sulla x se invece volete sapere le posizioni a ribasso basta mettere un meno davanti e lui quando arriverà al 55 per cento delle posizioni short mi lancerà l'alert quindi in questo modo avete comunque anche un alert che è interessante è chiaro fino a qui perché ho spiegato un po la diciamo le caratteristiche della della dashboard ok poi magari leggo anche altre domande ok poi una cosa un'altra cosa molto carina è che questi simboli che vedete qui sono simboli comunque che funzionano e potete andare direttamente sul grafico cliccando e potete salvarvi il vostro formato preferito quindi nella diciamo variabili esterne nei valori di input potete mettere il vostro template che io ho chiamato analisi retail poi potete essere alle stati via email o comunque avere delle notifiche su questione l'ho mai utilizzato però può anche essere utile comunque cliccando quindi se avete salvato il vostro formato che si fa così no voi per esempio volete salvare questo formato tasto destro del del mouse sul formato e chiedete salva formato ci mettete il nome che volete io questa cosa già l'ho fatta quindi quando clicco sulla diciamo la la coppia corrispondente quindi sul pulsante mi si attiva comunque il grafico è una cosa molto carina quindi queste diciamo è la prima schermata delle major poi abbiamo i cross cliccando su cross e diciamo che sono dei cross anche alcuni possono essere tradabili poi vi spiego un po io diciamo quello che il limite dei volumi che mi sono dato per avere un minimo di di popolazione statistica che sia almeno appunto un campione statistico accettabile poi ci sono anche gli indici però gli indici i cfd a parte il diciamo l'oro e il wti non hanno molti lotti sto venendo adesso un certo interesse sul diciamo l'espì con circa 300 lotti però diciamo che cfd su gli indici sono poco poco tradati dal diciamo dai dei trader che utilizzano mt4 mt5 è la c trader che sono questi dati aggregati quindi di tutti i broker quindi non solo tik mil questi non sono i volumi di tik mil ma parliamo comunque di dati a livello globale che possiamo andare a ricavare in maniera del tutto gratuita e qui arriviamo al secondo punto che dove reperire i dati sui retail in maniera del tutto gratuita quindi questo qui è una dashboard che che voi avete per per i clienti di tik mil però se voi volete averlo in maniera del tutto così gratuita perché magari non non mi interessa dire per qualche motivo con tik mil potete andare sul sito di mai fx book dal community outlook avete sostanzialmente le stesse indicazioni a volte sono anche a volte io stesso vado a controllare perché potrebbe esserci un leggero ritardo quindi diciamo che anche questa schermata è imprescindibile per vedere sempre per avere un quadro chiaro della situazione poi ma facebook lo fa molto bene questo questa sezione perché se vuoi come mettete sul col mouse su euro dollaro vi dà anche già un una prima schermata con le indicazioni che vi servono quindi qui anche qui poi abbiamo le stesse indicazioni che abbiamo sulla dashboard con leverage short price che appunto quel prezzo meno di carico sia short che long e anche qui potete mettere il campanellino quindi c'è anche per per mai fx book che non lo sapevo quindi poi cliccandoci dentro di appare la schermata e anche questa è fatta molto bene con comunque uno storico che è maggiore rispetto a quello dell'indicatore che potete utilizzare e vedere come si muove anche con il mouse quindi diciamo che consiglio vivamente di usare sia l'indicatore perché comunque aveva immediato e si lavora bene sulla mt4 ma anche questo qui perché è fatto molto bene quindi sono un po complementari allora adesso spiego un po l'indicatore le varie funzionalità quindi l'indicatore allora la dashboard ve l'ho fatta vedere questo è l'indicatore che sostanzialmente è la replica di quell'indicatore che avete su my fx book però ci sono un po di indicazioni in più allora visto così vi da la percentuale dei trader long e short quindi su vero dollar attualmente il 59 per cento e long e il 41 per cento short poi qui ci sono un po di tasti quindi potete utilizzare magari una se volete visualizzare e vedere come si sono mosse queste percentuali potete anche vederlo quindi con degli istogrammi per capire un po diciamo che tipo di pressione è stata fatta da determinati volumi o comunque percentuale in questo caso e quindi questa è un'altra modalità di visualizzazione quindi ce ne sono due poi cliccando su info vi appare qui in alto sul grafico la percentuale con le posizioni a mercato in questa in questo caso poi la cliccando su questo su questo pulsante abbiamo quindi 33 indicazioni percentuale retail questo non ce l'ha mai fx book poi abbiamo le posizioni quindi potete vedere anche come si sono mosse le posizioni questo caso significa che 70 mila posizioni a rialzo sono state aperte su euro dollaro contro le 37 mila di dello short poi anche i lotti quindi i lotti adesso si sovrappongono un po perché siamo un po sugli stessi livelli però avete visto che quelle 37 mila diciamo short che sono aperte quelle posizioni hanno un prezzo medio di cari cioè hanno scusate dei volumi dei lotti di 27 mila lotti e diciamo che sostanzialmente i lotti long con quelli short sono quasi dello stesso dello stesso volume quindi non è che ci sia tutto questo interesse da parte di tre rete su questi livelli di di euro dollaro comunque c'è molta incertezza equilibrio poi c'è la possibilità di vedere un po la grid come è fatto la griglia con i vari setup quindi dipende dalla da che tipo di percentuale noi abbiamo da che tipo di indicazione abbiamo messo ad esempio se mettiamo posizioni si apre attivando la griglia si può vedere diciamo una sorta di indicazioni sul numero delle posizioni quindi possiamo vedere che ad esempio su questo vediamo se c'è un po di storico possiamo vedere che gli short il 10 di marzo del 2020 erano circa 157 mila short di posizioni quindi è un dato che ti dà nell'immediatezza il numero corrispondente delle delle posizioni e poi uno uno strumento molto bello che questo non ha assolutamente mai facebook che è un po quello che effettivamente manca e non capisco perché non l'abbiano ancora messo sul grafico forse non so se hanno qualcosa a pagamento però è un po il cuore pulsante di tutto che sono i prezzi medi carico un po quello che mi ha illuminato nel diciamo in questo tipo di strategia perché all'inizio vedevo solo il numero dei lotti le posizioni ma non vedevo assolutamente come si muovevano i prezzi medi carico giornalmente da lì guarda andandole a mettere sul grafico e vedere come si spostavano giornalmente mi è arrivata praticamente un'illuminazione e adesso io anche potrei anche non vederle più queste cose so esattamente come opera la maggior parte dei tre retail quando scattano alcune dinamiche quindi questa è una cosa molto interessante che io non avrei mai visto se non avessi analizzato questi prezzi medi di carico che sostanzialmente sono questi in verde i prezzi medi di carico del long quindi appunto come vediamo prima questo è di questa mattina quindi che cosa fa questo indicatore ogni nuova diciamo sessione di trading quindi dalle forse da dalla sessione di londra scatta una fotografia dei prezzi medi di carico e mi dice guarda il prezzo medio di carico dei tre del retele attualmente per il long si trova 11 58 quindi significa che questa mattina e tre del rete stavano avevano un prezzo medio di carico in area 1 10 58 di contro quello dei trader al ribasso era di 108 e 38 quindi questo già un ottimo segnale perché ci dice come si sono possiamo andare andando adesso a vedere sulla dashboard che invece in tempo reale tenete conto 1 10 58 quello dei tre del retele attualmente è 1 10 e 48 quindi vedete che si è abbassato di 50 pips e scusate se 50 buonanotte di 10 pips quindi 10 pips inferiore rispetto a quello di oggi quindi significa che su questi livelli sono entrati più credere al rialzo quindi su questi livelli qui di oggi abbiamo un aumento dell'interesse long proprio perché oggi era 1 10 58 questa mattina adesso 1 10 e 48 quindi immaginate come se voi fosse un unico trader che cosa fare se il prezzo vi va contro aprite una nuova posizione per migliorare il vostro prezzo medio di carico quindi se avevate una posizione appunto uno 10 58 prendono un'altra si abbassa quel prezzo medio di carico e diciamo che appunto avendo la 1 10 e 48 l'avete 10 pips inferiore rispetto a quella attuale ma avete aumentato la vostra esposizione in long e quindi questo è un fattore molto principale ok questa è un po la spiegazione dell'expert e dell'indicatore spero che sia siano chiari un po i pulsanti datemi ovviamente sempre un feedback in chat in un goccio d'acqua ok perfetto ottimo ok adesso andiamo a vedere un po ok performance ottenute da questo studio allora come vi dicevo io su questo tipo di progetto sono diversi anni che lo sto lo sto seguendo diciamo alcuni sono andati bene comunque hanno portato ed è qualcuno un conto qualcuno l'ho bruciato altri sono andati bene qualcuno anche molto più che bene con l'analisi retail però sostanzialmente non non avevo mai comunque un diciamo un piano di training che mi consentisse di avere un diciamo una stabilità del delle performance quindi diciamo che primi i primi mesi sono stati comunque abbastanza brutti comunque abbastanza brutti perché applicavano una strategia con che prevedeva l'aging e l'aging purtroppo si è rivelato molto fatale perché cadevo nell'errore di chiudere le posizioni che andavano in profitto e far correre quelle che andavano in perdita quindi diciamo che sostanzialmente stavo facendo un po il gioco che fa la maggior parte del retail infatti quando poi ho iniziato il progetto che prevedeva appunto l'analisi rete i primi mesi del 2018 sono stati molto contrastanti quindi a parte un mese di ottobre del 2018 gli altri sono andati in perdita però poi man mano diciamo che il progetto ha trovato comunque una stabilità e l'ho applicata questa diciamo che in tutto nel 2019 utilizzato come test solo l'euro dollaro perché euro dollaro era quello che faceva pagare meno spread e commissioni e poi riuscivo a seguirlo bene e anche in bassa volatilità comunque si è dimostrato essere profittevole sostanzialmente per a parte due mesi di febbraio e maggio comunque è un altro chiuso in brecchino e gli altri mesi sono stati sempre profittevoli da tre mesi a questa parte stavendo ottime performance e nell'ultimo mese questo qui di marzo e le performance sono esplose perché ho deciso di applicare questo tipo di strategia anche alle altri strumenti perché questo un po è stato dovuto anche al fatto che tic mil ha migliorato molto la propria liquidità su altri strumenti abbassando spread e commissioni e quindi si trovano spede commissioni molto basse su quasi tutti gli strumenti questo diciamo che era un age abbastanza interessante da sfruttare quindi ho visto che si può applicare in maniera profittevole su tutte le su tutti gli strumenti che però adesso vi dico quali perché come dicevo prima non tutti hanno dei volumi di lotti interessanti quindi non rappresentano tutti un buon campione statistico quindi questo è un po diciamo il percorso studio che continuo sempre a fare su questo tipo di strategie vediamo se poi per questo poi sto creando questi webinar perché siccome poi gli strumenti sono tanti da analizzare creando poi un gruppo di lavoro ognuno di noi magari si specializza in qualche qualche coppia è la segnala senza che io poi debba andarmi a controllare una trentina di strumenti ogni sera e quindi su quello si può creare un bel gruppo di te spero che si possa comunque trovare un bel gruppo di di lavoro ok allora strategie applicabili ho ricavato tre strategie sostanzialmente da questo tipo di analisi retail quindi una che si chiama trend following quindi di primo incrocio una min reverting è un'altra ibrida che diciamo una variazione va a prendere la variazione dei prezzi medi di carico da una sessione all'altra per cercare di anticipare un po dei dei movimenti che possono comunque fare i tele retail quindi andiamo a vedere la prima strategia che quindi quella del primo incrocio che è molto semplice veramente elementare vi prendo faccio come esempio una quella della della sterlina recente sterlina allora quando le posizioni si sovrappongono quindi come in questo caso vedete qui abbiamo avuto degli incroci delle posizioni e quando arriviamo una percentuale che io identificato almeno del 60 per cento quindi come in questo caso sulla sterlina noi avevamo una sovrapposizione prima short in questo caso e poteva dare magari un falso segnale e poi però è partito il segnale quello corretto che ha dato la possibilità di per chi poi magari è bravo a far correre posizioni per poter guadagnare sulla sterlina quindi questo diciamo che la prima strategia semplicemente si attiva quando vediamo primo incrocio delle posizioni dobbiamo farci venire subito comunque l'allert in testa per applicare poi una strategia questo però non basta perché altrimenti se le posizioni incrociano in maniera ripetuta possono comunque creare dei falsi segnali e qui che arriva anche un po un modello di di gestione sia della posizione che comunque del dell'entrata perché io l'entrata non la vado a fare in intraday quando c'è alta volatilità perché se voi mettete a fare trading sul quando in piena volatilità siete comunque a rischio di stop maggiori e comunque magari andate a lavorare un movimento che già partito quindi io cerco invece di andarlo a prendere i momenti di bassa volatilità quindi quando si creano queste situazioni di bassa volatilità che sono diciamo dei momenti in cui perché sapete che comunque la volatilità è molto civica sul forex aumenta durante le ore di londra e new york per poi abbassarsi durante l'ora notturna quindi fino all'orario di tokyo per poi nuovamente alzarsi quindi io in queste situazioni attivo il famoso anti grid che molti di voi conoscono quindi l'anti grid è quello che poi fa l'operatività il filtro poi un altro filtro per quando c'è il primo incrocio per evitare di fare di cadere in queste trappole e e qui risponde una domanda che ho visto estemporanea di roberto se mi chiedeva un abbinamento con l'analisi grafica è quella di andare a lavorare magari il primo incrocio delle modi mobili quindi vedere come sta si sta muovendo una media lenta con una media veloce con una più lenta la gialla è quella più veloce quella blu è quella più lenta non è importante il periodo potete utilizzare quella che volete questa se non mi ricordo nemmeno che periodi sono dovrebbero essere una 100 e una venti potete usarla esponenziale semplice come volete non è quello l'importante però vedere un po questa situazione perché sono situazioni in cui poi quasi sempre corrisponde anche un incrocio delle posizioni retail e andando a fare questo diciamo gioco della bassa volatilità anche se vi prendete uno stop non è così costoso se invece aveva andato a prendere in queste situazioni perché un conto è lavorare qui trovare il trigger qui quando il movimento è partito ma un conto cercarlo qui in bassa volatilità fa tutta la differenza nel mondo perché l'antigrid andrà a cercare poi il pattern swing e se ho tempo ve lo spiego stasera se non domani che è il pattern di entrata quindi lui entra solo se c'è una condizione quindi che cosa che cosa faccio io vedo che c'è questo primo incrocio delle posizioni attivo l'antigrid in in nottata o comunque quando vedo comunque il movimento lui si fa appunto lavora per me perché comunque di notte dormiamo tutti e quindi poi sarà importante avere anche un server se utilizzate questa tipo di questo tipo di strategia ed è entra al posto appunto del quindi l'entrata non è discrezionale ma la fa l'expert e quindi poi gestirà in maniera automatica l'expert quindi questa è un po la modalità primo incrocio molto semplice terminate un parere in chat perché diciamo questa è la modalità più semplice quindi semplicemente quando si incrociano le posizioni una sovrappone l'altra perché short e non long perché si fa il contrario di quello che fa la maggior parte dei 3 del retail perché purtroppo la maggior parte dei 3 del retail perde queste sono statistiche che vengono anche pubblicate trimestralmente abbiamo percentuali che vanno da un 60 per cento fino a un 90 per cento non sono i retail che muovo nel mercato questa è una cosa che devo chiarire però se noi vediamo che un attore è in costante perdita quindi non riesce a prendere dei movimenti oppure li lavora contro magari evitare di fare quegli errori ci fa passare dalla parte giusta del mercato ok adesso vedo che in chat comunque ci sarebbero stati due falsi segnali pieni prendere no in realtà l'ho spiegato il discorso è di di avere un esposizione almeno del 60 per cento quindi in questo caso abbiamo le posizioni in equilibrio intorno al 50 per cento poteva entrare qui il falso segnale però non c'è l'incrocio delle medie mobili in questo caso quindi si poteva evitare o nel caso in questo caso ci fossimo messi long qui perché con il senno di voi è troppo facile che quando non lo facciamo però vedete che qui siamo in alta volatilità quindi in questo caso io non opero in queste situazioni qui perché alta volatilità ma anche nel caso fossi entrato in queste situazioni c'è uno stop loss quindi in questo caso avrei preso lo stop loss magari mettendolo qui sotto per poi entrare short il giorno dopo su queste situazioni qui quindi ovviamente non non è il santo graal possono aver avvenire dei falsi segnali come tutte le cose perché ovviamente se il mercato lateralizza troppo è in mercati laterali 3d retail guadagnano può essere un problema il problema per i 3d nasce quando partono dei trend direzionali che hanno bassa volatilità quindi sono quei sistemi non come adesso dove sono movimenti molto direzionali che diciamo in un'ora fanno 200 pips ma quando quando scende in maniera molto lenta e euro dollaro l'ha fatto qualche mese scorso prima appunto dell'esplosione di volatilità e infatti in quello in quel frangente sono saltati molti sistemi a griglia perché euro dollaro è andato a testare area 107 in maniera molto lenta e quindi i tre reti per in alla ricerca costante del miglioramento del prezzo medio di carico sono andati in sofferenza con le proprie posizioni e la maggior parte di loro purtroppo ha avuto la peggio ok quindi vediamo adesso invece l'altra che è l'eccesso retail l'eccesso retail allora analisi una premessa analisi retail è molto ciclica quindi ci sono molte fasi in cui ovviamente siccome i tre reti non sono la maggior parte da non molta non è molto capitalizzata può accadere che ovviamente le posizioni si sovrappongono dal tra loro in maniera anche diciamo nella stessa giornata quindi magari se parte un trend a favore della di una piccola parte di tre del c'è subito chi prende magari profitto esce dal mercato quando invece magari va contro iniziano un po i problemi e la maggior parte di tre di inizia ad aumentare le esposizioni l'esposizione fino a crearsi quello che io chiamo accesso retail cioè sono quelle fasi in cui parte un trend come ad esempio dollaro yen del 28 di febbraio quindi che cosa succede che parte un trend i 3 del retail si mette per la maggior parte del tempo long quindi che cosa succede che arriviamo a una situazione di oltre il 90 per cento quindi come in questo caso qui su questi casi siamo qui avevamo un esposizione nel 95 per cento long contro un 6 per cento short quindi queste sono situazioni per me di potenziale eccesso qui posso iniziare invece a ragionare in maniera in min reverting quindi quando arriviamo a situazioni nel 95 per cento sia se abbiamo perso il treno short in questo caso possiamo iniziare a vedere delle situazioni al rialzo questa è una situazione questa è una strategia molto pericolosa perché come potete vedere l'eccesso retail sostanzialmente inizia in questa fase qui quando si trova 107 50 però si è fatto altre sei figure al ribasso quindi entrando alla cieca quindi affidandoci solo all'esposizione del 95 per cento quindi entrando a favore della massa perché questo è un accesso avrei preso comunque degli stop mentre noi cosa facciamo dobbiamo aspettare che i trader al ribasso iniziano a trovare interessante il questo trend quindi a mettersi a favore del trend è un passaggio molto può magari sfuggire di primo impatto però è molto molto importante capire questa questa cosa qui perché finché scende scende in questa maniera qui la maggior parte dei trader continuerà sempre a comprare arrivando appunto al 95 per cento e quindi vedete che come quando scendeva questo prezzo chi era di altro che cosa faceva cercava di seguirlo quindi è partito da 109 45 arrivato a 107 quindi con esposizioni che sono arrivate al 92 per cento 92 95 in questo caso 93 86 vedete che in queste situazioni qui si è iniziato a perdere l'interesse dell'ong per andare invece a cercare lo short quindi ti vedete che cercavano lo short in queste situazioni qui perché vedete che prezzo meno di carico era 105 72 poi 104 19 il giorno dopo è salito 104 55 quindi in questo caso qui è iniziato a comparire l'interesse da parte dei tre retail quindi in quest'area qui invece ci si cerca il long ditemi se è chiaro perché questo è un po la parte più complicata che ho sempre un po di difficoltà a spiegare vediamo attirio chiaro ok chiaro ottimo mi fa piacere quindi in buona sostanza che cosa poi adesso vediamo se se ci sono delle situazioni dove vado proprio a farvi vedere l'operatività perché non è che mi piaccia molto fare diciamo un'analisi sul pregresso però questo mi serve per spiegare un po quelle situazioni di eccesso comunque la quello che è importante capire che quando parte un trend il classico errore che fa la maggior parte dei tre retail e che quando ovviamente il treno è partito tutti lo lavorano in min revertine perché dicono ok siccome il mercato si muove sempre in laterale prima o poi ritorna sui prezzi però lì partono i problemi un altro problema maggiore e quando i tre del rete cercano il cosiddetto swing cioè il trend è a ribasso non hanno il coraggio di entrare su questi supporti perché il prezzo è andato già troppo in troppo forte quindi è già troppo ha già avuto diciamo i suoi guadagni quindi sfido chiunque entrare su queste situazioni quando già si è fatto sette figure a ribasso quindi la cosa più facile che fa la maggior parte dei trader è magari mettersi long per lo stop sotto il minimo per cercare una ripertenza che però poi puntualmente viene ti va a prendere gli stop sul minimo quindi la pericolosità quando si crea quando si ha un respiro di questo trend come in questo caso è la maggior parte dei trader in queste situazioni qui non cerca più il long come faceva magari in questa situazione ma inizia a cercare lo short e quello è il momento in cui invece noi dobbiamo iniziare a metterci long quindi chi si mette short qui verrà preso nella fase di accumulazione dei prezzi medi di carico perché vedete che fase di accumulazione dei prezzi ha fatto e questa è la diciamo una cosa bellissima dei prezzi medi di carico perché ti fa vedere che si crea proprio una sorta di accumulazione aspettate che video ma la devo far vedere bene levando questi indicatori indicatore questo fratto cancello ok guardate questa situazione qui qui dove il prezzo è lateralizzato i 3d retail praticamente hanno cercato sempre lo short e si è creato una sorta di accumulazione vedete qui era prima era il 7 per cento solo che scioltava cioè scelta scendeva quindi ok questo 7 per cento guadagnava dopodiché dollaro di n è salito un po ma che cosa è successo che dal 7 per cento abbiamo avuto un 14 per cento quindi un 7 per cento iniziato dire ok ma questo qui secondo me è uno swing training si va a rivedere rimini i minimi e secondo me qui è la possibilità c'è la possibilità per entrare short e quindi il 7 per cento diventato poi il 14 per cento dopodiché ancora il 19 per cento lo vedete bene qui è rimasto sempre 19 per cento 22 per cento quindi questo interesse short per noi deve essere visto invece con una situazione di potenziale long perché vedete che poi long sostanzialmente sopra sono rimasti sono diminuiti dall 86 e l'81 per cento rimasti invariati 78 per cento e man mano che il prezzo poi saliva guardate che come si sia perso l'interesse da parte dei trader al rialzo e si è aumentato quello al ribasso e quindi può essere creata questa situazione di continuo ribasso quindi c'è continua ricerca del dello sport da parte dei trader al ribasso quindi siamo passati da un 7 per cento short a un attuale 46 per cento short quindi da qui questa è un po la è la fase di eccesso che bisogna poi lavorare con con questo tipo di analisi ok diamo un po di domande sì poi mi chiedo sulle divergenze si potete utilizzare se avete un altro se avete i propri vostri la vostra analisi tecnica va bene lo stesso non ci mancherebbe cioè potete comunque utilizzare sia sia appunto l'analisi rete il combinato con la vostra analisi tecnica è quello che preferite sulle divergenze ok allora vediamo allora adesso io dovrei passare a quella ibrida però io direi perché avevo trovato delle situazioni interessanti da negoziare per domani così vi spiego anche un po le variabili dell'expert ok allora vediamo se mi sono per questo qualcosa del programma allora prima di vedere prima di vedere un po l'operatività per domani su come io poi la interpreto ci sono tre punti da considerare allora siccome appunto io ho detto prima questo non è santo grale quindi ci possono essere comunque dei tre che vanno in perdita io generalmente su questo conto qui che sto utilizzando come appunto conto se vogliamo conto pilota vado a rischiare per ogni tre dello 0 10 per cento massimo 0 15 per cento per trade quindi di solito faccio sempre entrate per strumento poi vi spiego il perché poi bisogna sempre controllare la correlazione tra le varie valute per evitare di aumentare l'esposizione e dunque e dunque il rischio su coppie fortemente correlate tra loro perché può capitare che se entro ad esempio su euro dollaro può avere una inversamente correlato con usd chf quindi se vado ad operare su quelle due valute potrò vado ad aumentare il rischio quindi questa cosa deve essere assolutamente sempre comunque gestibile dobbiamo tener conto anche di questo e poi seguire ovviamente le dinamiche macroeconomiche e le mosse delle varie banche centrali perché ho detto i deteni non muovono nulla però avere un occhio anche un po quelle che sono le dinamiche che possono avere che possono influire sul mercato e quindi magari in questa situazione in cui c'è una rincorsa sempre all'acquisto di dollari cerchiamo di filtrare quelle che sono le situazioni a favore appunto di acquisto di dollari quindi evitare magari quelle situazioni in cui andiamo un po a lavorare in maniera contro dollari detto questo però partiamo adesso da un punto di vista operativo io mi sono un po analizzato prima del webinar alcune situazioni mi piaceva l'ingresso long su euro dollaro per domani perché avevo visto un interesse da parte dei trader short su questa salita che aveva fatto euro dollaro perché qui erano entrati più short eravamo passati da un 40 42 per cento però adesso è ritornato l'interesse su questi valori quindi la vado un po a discutere però quella che mi piace per domani euro yen euro yen si sta muovendo il laterale da un po di tempo però oggi è partito comunque un una fase diciamo di candele rialziste sull'h1 quello che faccio io cos'è è oltre la percentuale vado a vedermi su un grafico dei questo è un attimo perché altrimenti si carica troppo un possibile target che può colpire la prima resistenza utile che può colpire euro yen quindi adesso il settanta per cento dei trader si è posizionato short su euro yen potrebbe questo cross andare a colpire a 120 e 30 che la prima resistenza utile io le resistenze supporti le calcolo in maniera le uso in maniera molto oggettiva con l'indicatore questo qui si chiama indicatore di liberi che voi trovate su sul sito di mql 4 praticamente che cosa fa traccia gli ultimi swing è lo stesso del fratta però mi piace molto la visualizzazione grafica che ha perché nell'immediato i primi supporti le resistenze quindi sul su un grafico dei vado a vedermi la prima resistenza che sarà il mio primo target siccome entrerò con due entrate dopodiché cercherò anche un obiettivo più di lungo termine che lo vado a ricavare su un grafico weekly che ha le 121 48 e quindi siccome che a cerco delle situazioni piramidali vado a vedermi anche il mensile che l'altra esistenza prima resistenza del mensile alle 122 87 lo scopo qual è è che di evitare l'errore che fa maggior parte dei trader cioè quello di tagliare i profitti mi lascia correre le perdite voi adesso quando vi scaricherete il l'indicatore vedete che i prezzi medi di carico vi dicono proprio questo perché quando parte un movimento direzionale il prezzo medio di carico di chi è in guadagno non resta mai fermo ma segue pericolosamente il prezzo finché non rimane nuovamente incastrato mentre chi è in perdita lo insegue in maniera quasi spasmotica perché continua ad aprire posizioni contro quel trend quindi quest'errore qui va evitato però è troppo semplice a mio avviso dire si fai correre i guadagni ma fino a dove almeno quindi crearsi dei degli obiettivi sul lungo termine quindi andando a guardare time frame più alti può essere un buon un buon metodo anche perché se la direzione quella giusta quindi se qui entriamo bene e le posizioni short iniziano a aumentare molto probabilmente andrà fino a prendere quei target un altro metodo che può essere utilizzato è quello di farlo far correre le posizioni almeno fino alla volatilità settimanale che lo strumento fa questa cosa qui è già inclusa nell'anti grid che adesso vi mostro allora eurocad gialluca poi te lo faccio vedere allora però io per domani adesso applico questa il long su euro di n quindi adesso mi sposto sul server e applicherò questa strategia allora l'anti grid che vi ho fatto si scarica direttamente anche quello su google drive quindi troverete un anti grid chiamato vediamo se qui riesco ad attivare la tabella chiamato 20 febbraio 2020 che l'ultima versione aggiornata quindi una volta installato quindi con la faccina sorridente avete questo pannellino allora c'è il pannello stand by che quindi cliccando su questo sullo stand by il adesso siamo fuori orario programmato però se state operando durante il giorno e mettete cliccare su stand by l'expert si ferma potete scegliere voi la direzione quindi dare una direzione precisa all'expert quindi dire voi la prima entrata long vuole poi vuole altre entrate short quindi se volete creare una sorta di diciamo di di griglia sul mercato potete anche farlo però questo non è lo scopo adesso del del webinar vi sto spiegando solo un po le le varie funzionalità e potete poi scegliere il numero delle entrate cliccando su questo contatore che arriva fino a 10 quindi potete fare 10 entrate by di centrati sell anche contestualmente poi c'è un pannellino cliccando info posizioni di appare la schermata con tutte le posizioni che voi gestite su questa coppia quindi vi vengono fornite anche alcune informazioni appunto sulla volatilità che uno strumento a uno strumento a corso da quanto è entrato ovviamente adesso non abbia non avendo posizioni aperte non c'è nessuna posizione che viene visualizzata in posizioni gestite dopodiché c'è un livello di attivazione che voi potete anche decidere ad esempio se non vi piace entrare qui qui perché adesso poi l'anti grid farà i suoi ragionamenti sul sul grafico h1 ma volete entrare su un livello che ne so quando arriva qui quando arriva qui attivami l'expert ok quindi c'è il livello di attivazione che ti fa che cliccando ti dice vuoi creare un livello di attivazione cliccandosi puoi creare un livello di attivazione inferiore possiamo dire di no in questo caso mi apparirà una un livello qui in alto che trascinandolo sul livello che voi volete vi darà la possibilità di attivare l'anti grid solo se tocca quel livello quindi non entra in breakout quando arriva qui ma inizia a ragionare su quel livello e cercherà il primo swing utile poi qui possiamo decidere la direzionalità o altre cose però siccome già quasi siamo un'ora e io vi dico attivo l'expert quindi un'altra cosa che vedo è lo stop che è basato sul picco di volatilità che euro dollar ha fatto su h1 nella nella giornata il picco di volatilità sono questi questi appunto dove sto indicando adesso picco di volatilità di oggi è stato di 47 pips quindi lo devo andare inserire nelle variabili esterne queste poi ve le spiego domani ma comunque siccome c'è uno ogni sera adesso magari vanno un po veloce però poi domani ve li spiego bene c'è anche il massimo spread che sono disposto a pagare perché di notte può capitare che si possa allargare lo spread e quindi per evitare questo io vi dico all'expert ok mi devo entrare al mercato ma se c'è una forchetta spread troppo ampia quindi che ne so di su euro di anni mi sono creato una tabella ci sono troppe cose da da dirvi però io non lascio nulla al caso e mi sono anche creato una tabella sul range di spread e che possono aumentare durante il weekend soprattutto quindi su euro di n euro di n dove euro di n questo poi ve lo do senza problemi e allora euro di n ha un range di volatilità quindi di spread questo fa riferimento a tic mille poi per altri broker quasi sicuramente più largo perché tic mille e tre migliori però il range di del massimo spread della forchetta che si può allargare durante soprattutto il weekend e tra i 10 e 20 pips quindi poi ho altre informazioni come la vola settimanale ma questo poi ve lo spiego in un altro modo comunque tra lo 0 10 e lo 0 15 per cento quindi per avere questo stop su euro di n che ho detto prima tra la forchetta di 0 10 e 0 15 e lo stop ideale sarebbe di 142 pips quindi dovrei utilizzare diciamo dovrei per avere lo 0 15 sul capitale adesso che a disposizione che appunto di circa 12 mila euro sarebbero appunto 142 pips però quello che è importante adesso il range che io quindi metto qui ti dico se lo spread stanotte arriva a massimo 20 pips vuoi per qualche notizio qua o per altre cose non entrare poi il margin break questo ve lo spiego domani ma io lo metto a 0 5 poi vi dico perché c'è la gestione dei lotti quindi in questo caso io sul cross euro viene andrò a rischiare rischiare 0 10 i lotti fissi questo è un parametro mettetelo il più basso possibile perché comunque non viene preso di riferimento dall'antigrid perché ho già deciso che comunque questo sovrasta questa variabile qui quindi lo 0 10 lo calcolare sul sul capitale lo stop loss abbiamo detto quindi di 47 pips poi ci sono due variabili che anche queste spiegherò magari domani margin break lo metto 1 quindi lo lascio così e poi la fascia orale in cui lui andrà a lavorare è da mezzanotte quindi di questa quindi appena scattola mezzanotte fino alle 11 ora serve che più o meno sono le 9 di sera e le 9 di sera le 9 del mattino quindi che il caso questo il posto dire anche sì ma lui comunque non entra perché fuori orario programmato quindi andrò applicare due entrate abbiamo detto by come ho detto il target per domani potrebbe essere potrebbe essere su un grafico del il non mi ricordo qual era il livello area 120 e 29 quindi che cosa faccio vado a mettere attivare un livello dove l'expert in automatico si metterà in break even se nel caso dovesse arrivare in quella situazione quindi diciamo che il target è questa qui area 120 e 31 che il 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 target della resistenza deli quindi c'è un altro tasto che il livello target quindi chi faccio vuoi creare un livello target superiore si quella inferiore non ci interessa quindi io sposto la linea su 120 e 32 quindi se domani euro dn riesce ad arrivare su questi livelli qui io con due entrate verranno una appena arriva verranno messe tutte e due a perché ma però se una delle due arriva su questo livello posso decidere di chiudere questa è l'unica variabile discrezionale il una delle due by quindi prendermi il take su questo livello e l'altra lasciarla correre per gli altri gli altri e altre entrate che poi vi farò vedere ok questo sostanzialmente è la prima entrata poi c'era un'altra e mi piaceva particolarmente che nz di usd che stiamo nella fase di eccesso quello che vi dicevo vedete come i tre retail sono due giorni che sono due giorni che stanno scioltando su questi livelli è aumentata l'esposizione dal 22 per cento adesso siamo un 26 per cento il diciamo è anche aumentato quello del long però siccome siamo in un eccesso che dura diverso tempo io qui tra a questo poi la cosa fondamentale che rischiando solo lo 0 10 per cento io su alcune situazioni posso permettermi di essere più rischioso quindi per la giornata di domani troverò adesso anche un long su nz di usd proprio per il discorso che ho fatto sullo yen vedete al ribasso i tre rete adesso stanno cercando gli swing per andarsi rivedere i minimi in questo caso invece cerco una fase long però mi vado a vedere sul grafico deli dove può arrivare quindi un target abbastanza plausibile quindi domani potrebbe andarsi rivedere domani o tra un paio di giorni dipende dalla volatilità però potrebbe andarsi a vedere primo massimo disponibile che ha il 0 58 e 82 quindi farò la stessa applicherò la stessa strategia che ho applicato su euro yen però su nz di usd nz di usd l'unica cosa che devo fare nemmeno andare a vedere quant'è l'allargamento dello spread nz di usd e basso tra lo 0 10 per 0 10 pips qui la volatilità è esplosa quindi diciamo che per avere uno stop ideale che mi permette di avere un uno stop tra lo 0 il 30 per cento qui dovrebbe essere sui 128 pips perché comunque la volatilità nelle ultime settimane è molto diventata molto aggressiva e quindi vado a fare la stessa cosa allora nz di usd quindi f7 qui il massimo spread 10 anche qui metto un margin break di 0 5 il lot management sempre true con rischio dello 0 10 per cento non mi sono visto la volatilità che ha fatto oggi picco di volatilità che è di 55 pips margine lo lascio così poi il true quindi da mezzanotte fino alle diciamo alle 9 di domani cercherà dei setup long ve lo spiego domani il setup quindi direzione bai vedete che l'expert ha inserito in basso a sinistra dei pallini non ve l'ho detto prima questo sta a indicare che entrerà con due entrate bai ogni entrata ora il rischio dello 0 10 quindi in totale lo 0 20 per cento è un'entrata che fa sull'h1 e il target come abbiamo visto è il massimo che si vede molto bene anche sull'h1 che è questa spike qui che quindi aree 0 59 e 16 quindi quando arriverà qui le due bai verranno messi a brecchivo e poi potrà decidere di chiudere una delle due diciamo questi sono gli ingressi per domani altri non ce ne sono che su 16 hf è rientrata un po la situazione mi dispiace per euro dollaro perché domani era una buona situazione per andarsi a vedere questo questo questa area di 1 8 31 però sempre a livello didattico io comunque rischiando lo 0 10 attivo anche su euro dollaro che quella principale quindi long allora euro dollaro e poi chiudo qui il massimo spread di euro dollaro che fa di tre pips quindi è molto basso questo lo lascio 0 2 perché euro dollaro a lo spread a 0 ecco mi interessa sapere un po la volatilità di oggi che su euro dollaro e 53 55 pips quindi volatilità molto alta è aumentata di quasi tre volte rispetto a quella canonica quindi ok rimasto sempre su quei valori ok true a quest'ora dovete essere soltanto un po luci di se lavorate verso quest'ora cosa che io non sempre riesco ad essere molto lucido a quest'ora però cerchiamo di avere massima concentrazione in questi momenti di non sbagliare poi diciamo la l'attivazione dell'expert quindi anche qui due bai euro dollaro qui anche metto una chiave discrezionale perché dovuto al fatto che quindi quando vi dicevo il livello macroeconomico sul lato cote report su euro dollaro sono entrati i grossi speculatori alla rialzo quindi vediamo se domani riesce a prendersi questo doppio massimo in area 108 e 32 quindi diciamo che queste situazioni sono molto correlate tra loro quindi euro dollaro nz di usd euro di n tutte e tre bai quindi diciamo che per questo io poi utilizzo 0 10 perché capita molte volte di essere siccome la correlazione in questo caso è positiva nel caso malaugurato e può succedere che vadano tutte e tre in stop la perdita però massima che io in questo caso dello e dello 0 60 per cento proprio perché c'è alta correlazione quindi in questo caso potrebbe andare tutte e tre e in stop in quel caso appunto lo stop la la perdita sarà del 0 60 per cento ok quindi questo l'ho detto poi la tabella questa ve la darò insieme per avere il diciamo tutto questo ben di dio è tutto gratuito ma basta essere clienti di un conto reale conti il deposito minimo di 1000 euro io prima lo davo gratuito a tutti i clienti di 1000 non andavo a guardare il deposito però siccome le richieste sono a mano aumentate quindi queste girano sul lato server queste indicazioni per non sovraccaricare troppo il server ho deciso di filtrare un po e quindi solo chi ha mette un deposito di almeno 1000 euro avrà questi questo indicatore quindi avrà la dashboard l'indicatore rete l'expert che appunto anti grid entrerà a far parte del gruppo telegram privato che è dedicato che è l'analisi retail dove appunto verrà fatta solo esclusivamente questo quindi e si chiama analisi retail poi per il link appunto chi poi avrà versato è attivato il conto girerò il link si potrà avere una call skype con me se lo vorrà per delineare un po tutto quindi magari adesso ci saranno in webinar quindi ogni sera magari poi le cose saranno molto più assimilabili però se qualcuno vuole farsi una call skype la possiamo programmare e anche soprattutto l'assistenza e supporto dal programmatore che è salvatore la viola per appunto tutta l'assistenza per l'installazione eventuali problemi e c'è abbiamo anche diciamo l'app desk dedicato quindi sicuramente massima assistenza e mi sembra che è un buon compromesso basta aprire un conto reale con tic 1000 e avrete il conto migliore che c'è sul mercato non lo dico perché lavoro per tic 1000 ma è oggettivo visto gli spread delle commissioni che ha e quindi sul forex siamo imbattibili siccome questa strategia si lavora lavora sulle major e cross avete il meglio che potete avere sul mercato ok questa è un po la situazione io direi che ci sono diverse domande se qualcuno poi la vuole fare anche a voce ma lo dica però siamo un po tutti stanchi vediamo se riesco a se passiamo magari ne parliamo domani sul fatto della tr che dimostra una prevole divergenza ci sono diverse domande che purtroppo perso sul discorso gianluca allora eurocad allora eurocad è andata molto bene eurocad allora eurocad deve andare a chiudere un gap però oggi è andata in stop dov'è eurocad vediamo se eurocad perché mi sa che si è perso un po eurocad no eurocad adesso non non è short però le le altre entrate della scorsa settimana fatto quasi 400 pips su eurocad eurocad 710 pips quindi il gap non l'ha chiuso ancora quindi questo qui è da monitorare perché appena si crea un nuovo interesse da parte dei trader per il il long adesso sono messi nuovamente short il gap da chiudere a 1 51 90 quindi quella si si monitora nei giorni nei prossimi giorni e vediamo per adesso ci sono queste tre opportunità vediamo se andranno dove devono andare oppure andranno in stop va bene grazie a tutti e video appuntamento domani sempre alle 21 e dove parleremo di sempre di analisi rete le faremo altri esempi grazie e buona serata grazie a tutti grazie a tutti